Sono Paolo Puni e sono un consulente di profitto. Il mio compito è quello di aiutarti a spremere fuori dai tuoi prodotti le tue vere soluzioni per permetterti di vendere di più, con più margine e con più facilità. Mettimi alla prova, prenota un'ora di consulenza per capire se sono in grado di aiutarti. Ti chiedo solo 20 euro per testimoniare il tuo reale interesse. Ti aspetto! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS